Il protrarsi della chiusura dei centri estetici e dei parrucchieri ha procurato enormi problemi alla categoria che rischia di non far più riaprire il 35% dell'attività del settore. A peggiorare la situazione c'è anche la questione dell'abusivismo, che oltre a danneggiare la categoria è pericoloso sotto l'aspetto della diffusione del contagio, non avendo nessun tipo di controllo. Sembra che nel territorio di Corte Maggiore e Besenzone, in provincia di Piacenza, operino abusivamente 9 persone a fronte di 10 regolari con partita IVA che hanno sospeso la propria attività. È un problema che mi è stato segnalato dalle attività di acconciatore estetista regolarmente censite nel comune di Corte Maggiore, dove sono state segnalate delle irregolarità di persone che operano di fuori della legge, quindi sprovviste di licenza a domicilio senza alcuna protezione o norma di sicurezza sanitaria, quindi al di là di una concorrenza sleale dal punto di vista fiscale, oggi secondo me è molto pericoloso anche per chi si reca da queste persone, perché siamo ancora in emergenza sanitaria, quindi senza i necessari protocolli di disinfestazione, sanificazione, senza protezione come mascherine, guanti, camici e visiera, direi veramente un rischio per la salute. In seguito alle segnalazioni che sono nate e sono spontaneamente arrivate sia sui social, sia dal presidente e nonché sindaco del comune di Corte Maggiore, noi stiamo svolgendo attività di verifica e di monitoraggio per controllo della vericità di queste segnalazioni. Parrucchieri, centri estetici e artigiani avrebbero potuto riprendere le proprie attività con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. La ritardata ripresa di tali attività alimenterà abusivismo e lavoro nero. Io penso che oltre al fatto dei soldi che non sono comunque presi legalmente, il problema grosso è il fatto che in una pandemia mondiale non hanno tenuto rispetto per le persone, clienti, loro, chiamiamoli così tra virgolette, che hanno usato questo servizio. Venire a sapere che colleghi comunque stanno esercitando la professione in casa abusivamente non è una bella cosa insomma, per chi oltre a me sta rispettando le regole ci sentiamo un po' presi in giro e quindi speriamo che questa cosa finisca al più presto.